Con Ciccio Solito, direttore sportivo della Corim Città di Taranto, ad una settimana esatta dalla storica salvezza ottenuta nel campionato di Serie A2, si festeggia in un'occasione speciale, Viva Cimino 2018, perché tra le società invitate c'è anche quella del sodalizio di Gianni Marsi. Insomma, occasione migliore proprio non ci poteva essere. Sì, grazie innanzitutto per l'invito. Dopo una settimana dalla salvezza stiamo continuando questi festeggiamenti. A noi ci fa piacere partecipare a tutti questi eventi, soprattutto quando vedi così tanta gente, così tanti bambini, non può che farci onore. Parliamo adesso di questo che è un evento dove tante discipline sportive si fondono insieme per far stare bene tutta la comunità tarantina. Anche voi avete fatto lo stesso quest'anno perché al Palafirma davvero ci sono stati dei numeri impressionanti. Sì, sì, beh io penso che comunque la presenza delle persone, del tifo, non può che far piacere alle persone. Poi quando vedi diversi sport, diverse discipline è bello sempre confrontarsi con altre realtà. Poi sono tutte realtà tarantine e sono cose belle. Poi sono tutte le persone, non può che far piacere alle persone, non può che far piacere alle persone.